Buonasera amici di Teleiride, buonasera amici del TG Viola, 12esimo giorno di ritiro in Val di Fassa per la Fiorentina di Paolo Sosa che prepara la stagione 2016-2017. Noi commentiamo questi primi 12 giorni di ritiro insieme al collega della Repubblica Matteo Dovellini. Buonasera Fabio e buonasera a tutti. 12 giorni di lavoro intenso per la squadra di Paolo Sosa, 12 giorni in cui l'allenatore Lusitano ha provato anche a cambiare faccia alla sua Fiorentina. Ovviamente c'è voglia di renderla più imprevedibile nel corso della prossima stagione anche perché le armi tattiche usate nel passato campionato sono state un po' tutte studiate anche dagli avversari. Tomovic ha detto proprio qui in ritiro che la Fiorentina dopo una partenza straordinaria l'anno scorso poi le avversarie iniziavano a capire il gioco e quindi avevano anche studiato e era prevedibile. Quindi più imprevedibilità sicuramente. Come dicevamo la difesa a 4, la difesa a 4 l'ha provata anche per avere più solidità e in questo caso il mercato può dare una mano. In questo senso credo anche che Sosa stia puntando in un pressing molto più asfissiante nei confronti degli avversari e poi quando c'è da coprire, da tornare in difesa, coprire più le zone, lasciare meno buchi nel campo come lo stesso Tomovic ha fatto notare. Insomma era qualcosa che l'anno scorso non ha funzionato quando si prendeva il contropiede e rimanevamo uno contro uno. Oltre alle novità tattiche però ci sono anche alcune novità legate alla rosa a disposizione di Paolo Sosa e in particolar modo ci sono tre giovani che sono già in fase di preparazione qua sul campo del Cesare Benatti. Ovviamente stiamo parlando del portiere Drongoschi, del trequartista Gianni Sagi figlio del grande Georgie, una stella del calcio rumeno e poi ovviamente anche del terzino destro Kevin Dix che sarà chiamato in un certo qual modo a supplire a una carenza storica della Fiorentina ovvero a quella sulla corsia di destra. Ebbè è un terzino che ci voleva, è stato atteso per tantissimo tempo, alla fine è arrivato Dix, molto interessante, 96 quindi 20 anni, è un giocatore da vedere, da provare quindi il ritiro sta facendo abbastanza bene. Drongoschi un portiere anche lui molto giovane, un 97 potrebbe essere un buon secondo portiere, almeno questo è nell'intenzione anche di Corvino e poi Agi, Agi è un 98 quindi entra in questa scalata al ribasso d'età, 96, 97, 98 è il più giovane però forse tra tutti e tre è anche il più promettente. Quindi andiamoci tranquilli, andiamoci sereni, non ci dimentichiamo Fabio che DHT, anche lui è un 98 e l'anno scorso l'avevamo sparato come il nuovo Pogba, poi alla fine insomma bisogna stare attenti con questi giocatori che magari sono talenti, sono fortissimi però diamo il tempo di crescere in tranquillità. Ovviamente ci vuole calma soprattutto con i giovani, ci vuole calma anche per quanto riguarda il mercato della Fiorentina, un mercato che in questi ultimi giorni ha soprattutto un nome, quello di Hernan Toledo, il centrocampista argentino classe 96 che sembra veramente in procinto di arrivare a Firenze. Toledo sì, sicuramente un talento tra questi citati molto interessante, non so se arriverà a Moena perché sta slittando, il suo arrivo a Firenze, le visite mediche stanno un po' slittando, forse lo vedremo nella parte del ritiro austriaco. Però è un giovane molto interessante, ne parlano benissimo, addirittura paragoni con Di Maria, non l'abbiamo mai visto in campo qui dal vivo quindi vediamolo prima, no? Prima di Giudicardo perché poi se ne sono sentite tante e Gilberto mi ricordo una volta disse, era a metà traccafu un altro giocatore, non ricordo, ora con tutto il rispetto. Paragoni importanti. Sì, ma nel senso io capisco, quando uno dice mi ispiro è perché magari ha un idolo in testa, nella mente e dice va bene, penso a lui, ho capito, però tra ispirarsi e poi rendere come, insomma aspettiamo, vediamo. Detto questo, Corvino lavora con i giovani e Corvino è fenomeno con i giovani, quindi sicuramente se l'ha preso e ha speso anche una cifra perché credo venga in prestito con diritto di riscatto, ma un diritto credo sui 6-7 milioni, insomma un giocatore sicuramente valido. Un'ultima domanda per Matteo Dovellini, collega della Repubblica, a proposito di un altro arrivo atteso, stavolta non a Firenze ma in Val di Fassa in particolar modo, quello della dirigenza, quello della società, ovviamente si attende Mario Cognigni ma si attende anche Andrea Della Valle. Sì, Cognigni nella giornata di venerdì, Della Valle tra venerdì sera e sabato mattina, io credo che Della Valle se verrà a Moena e nel ritiro qui nella Val di Fassa assisterà al primo tempo, comunque alla partita contro i greci, nell'ultima amichevole appunto del ritiro e poi saluterà. Mentre Cognigni credo che venerdì parlerà anche perché comunque sono alcuni temi molto interessanti, tra questi al di là di quelli del campo con Sousa, che comunque Sousa non dimentichiamolo, parla esclusivamente con Corvino, unico referente è Corvino. Questo non lo dimentichiamo, poi ovviamente Corvino è in contatto con Cognigni, però insomma queste sono le gerarchie e vanno rispettate. Detto questo Cognigni deve rispondere anche su altri temi, tra questi la società, insomma le intenzioni, le ambizioni, lo sponsor, gli investimenti, cosa si vuole fare, quelli che sono gli obiettivi e questo credo che sarà molto interessante. Bene, un ringraziamento a Matteo Dovellini della Repubblica per essere stato in nostra compagnia, aver provato a fare chiarezza anche un po' su questi 12 giorni di ritiro della Fiorentina a Moena. Ovviamente Matteo, noi siamo sempre qua a cercare di monitorare poi quello che accadrà realmente negli ultimi giorni del ritiro della Fiorentina. Grazie mille Matteo. Grazie a voi, buonasera. Come detto in compagnia del collega di Repubblica Matteo Dovellini, siamo nel corso del 12 giorno di ritiro per la Fiorentina qua in Val di Fassa, un 12 giorno di ritiro iniziato con una mattinata libera per la squadra che non si è allenata appunto nel classico allenamento delle 10 di mattina, anche perché appunto nel pomeriggio poi è arrivato l'impegno amichevole contro il Trapani, di cui vi parleremo amici del TG Viola abbondantemente domani con la sintesi e l'approfondimento sulle parole post partita che arriveranno attraverso la conferenza stampa. Nella giornata di oggi appunto un test sicuramente più probante rispetto ai primi due andati in scena nel ritiro di Moena, ovviamente il Trapani lo conosciamo meglio di quanto conosciamo il team Trentino e la Feralpi Salò, una squadra che nel corso del campionato di Serie B appena conclusosi ha flertato a lungo con il passaggio di categoria, infatti la squadra allenata da Cersei Cosmi ha sfiorato il passaggio in Serie A. Dunque amichevole sicuramente interessante, amichevole che come detto vi racconteremo interamente domani. Per quanto riguarda la giornata di oggi invece anche tanti rumors di mercato, in particolar modo quello legato a Hernan Toledo, giocatore del Vélez Sarsfield, classe 96, che arriva dall'Argentina e che sembra ormai certo appunto di vestire la maglia viola nel prossimo campionato. Per lui si parla di un prestito biennale con diritto di riscatto fissato anche a cifre importanti, come ci ricordava il collega di Repubblica Matteo Dovellini, intorno ai 7 milioni di euro. Nei giorni scorsi, sempre qua nel ritiro di Moena, è giunta anche una visita importante per quanto riguarda la città di Firenze, infatti era presente l'assessore allo sport Andrea Vannucci che ha rilasciato queste dichiarazioni sulla squadra viola che rinasce a partire proprio da questo ritiro e anche su delle celebrazioni importanti che arriveranno nel corso di questa stagione 2016-2017, l'assessore Vannucci, che comunque non ha dimenticato anche di parlare di un giocatore atteso dalla rinascita, ovvero Giuseppe Rossi. Noi ci andiamo a sentire proprio l'intervista all'assessore allo sport del Comune di Firenze, Andrea Vannucci. Sì, ogni nuova stagione, ogni stagione che inizia è una nuova sfida, anzi un insieme di tante sfide, la Fiorentina è un qualcosa di importantissimo per la città di Firenze, per i fiorentini, questo legame tra la squadra e la città è un qualcosa di unico, in qualità di rappresentanti dell'amministrazione comunale non potevano non essere qui oggi a portare appunto il saluto dell'amministrazione comunale a questo pezzo di cuore di Firenze che è la squadra Viola. Ed evidentemente per fare gli auguri che la stagione 2016-2017 sia ricca, ricca, ricca di soddisfazione. Anche perché poi insomma è una stagione importante anche a livello di celebrazione, insomma si parla di un compleanno importante. Eh, non soltanto uno direi, ce n'è almeno due di compleanno importanti, c'è lo scudetto, il primo scudetto, quello del 56 e poi c'è quella data, quella data che risuona spesso in Curva Fiesole e non soltanto in Curva Fiesole, lei è del 26, bene, quest'anno sono 90 anni e quindi quella che ci apprestiamo a vivere è un'annata che merita, proprio per i simboli che si porta dietro una grande stagione da parte della squadra, ma questo sono convinto che lo sappiano benissimo i ragazzi, lo sappiano benissimo il mister, lo sappiano benissimo la società. Prima ha parlato di rinascita, un'ultima battuta su Giuseppe Rossi, è attesa davvero moltissimo dai tifosi della Fiorentina la rinascita di Giuseppe Rossi. Ci crede l'assessore Vannucci? Io ancora non l'ho incontrato, ho pepito. Penso che il voler rimettersi in discussione, rimettersi in gioco sia il miglior modo per ripartire, il miglior modo per dimostrare a se stesso e agli altri che c'è tanta voglia di dare delle risposte, di darle nell'unico luogo in cui contano davvero, ovvero il campo. Quindi faccio il mio in bocca al lupo a Giuseppe perché torni veramente a farci sognare, perché lui ci ha fatto sognare purtroppo soltanto per un girone, però è stato un girone che tutti ci ricordiamo e ci ricorderemo per sempre. Queste le parole dell'assessore Andrea Vannucci, sono le parole con cui si conclude l'appuntamento del TG Viola di oggi, ovviamente però l'invito è quello a risintonizzarvi anche domani sempre alle ore 19 per seguire tutto quello che c'è da sapere sulla Fiorentina, in particolar modo come detto in precedenza, domani parleremo dell'amichevole contro il trapani, del risultato e anche delle parole arrivate in conferenza stampa. Noi ci salutiamo così ma ovviamente restiamo sempre pronti e attenti nel monitorare la situazione in Casa Viola.